Santa Caterina Albanese, Picilia in Albreche, è un comune calabrese della provincia di Cosenza, il cui centro è situato a 472 metri sul livello del mare, sulle pendici della catena costiera calabrese. La popolazione è di lingua, costumi e tradizioni albanesi, Albreche appunto. Santa Caterina Albanese è una colonia albanese dal 1400 che ha accolto gli esuli albanesi che dovettero emigrare per l'invasione dell'impero ottomano. I profughi albanesi si fermarono nella contrada Prato, vicino all'ex badia cistercense di Santa Maria Lamatina. Anticamente sul sito dell'attuale paese sorgeva il casale disabitato probabilmente detto Piesileum, poi albanesizzato dai suoi abitanti in Picilia. Ai fondatori si aggiunsero successivamente altri albanesi provenienti dalla Morea, quando anche questa cadde in mano turca. Poi nel 1578 l'intero territorio fu consegnato dalla famiglia Bruno, passando successivamente agli Ortado e infine passò ai Sanseverino di Saponara, che lo mantennero fino all'eversione della feudalità nel 1806. Il paese, dopo varie vicissitudini e battaglie sociopolitiche e culturali, è ridivenuto comune autonomo nel 1934. Tra i suoi più illustri figli si menziona Papas Francesco Antonio Sartori, qui nato nel 1819, che fu sacerdote, poeta e scrittore, che scrisse il primo dramma della letteratura albanese moderna. A proposito dell'architettura urbanistica di Santa Caterina, i vicoli sono segnati dagli acciottolati e d'archi che rievocano i tempi più remoti. Nella parte settentrionale del paese sorge la chiesa madre, dedicata a San Nicola Magno, in stile barocco, mentre dal piccolo centro abitato parte la via San Pantaleone, dalla quale si raggiunge la cappella del martire di Nicomedia, sorta intorno al 1600. Il 27 luglio si festeggia San Pantaleone, patrono del paese, che come durante tutte le diverse ricorrenze e manifestazioni, vede indossato il costume tradizionale albanese femminile.